Eccoci qua di nuovo, vediamo come sta procedendo la Noemi col suo impasto, vai! Ecco, vedi che si sta formando sempre di più, e adesso andiamo ad aggiungere un po' di olio. Questo ti aiuto io perché hai le mani tutte sporche. Sporche. Ok. Sono circa 15 grammi di olio. Vai! Continua a mescolare. Continua a impastare. Prendi anche quell'olio che c'è giù, vedi? Brava. Ecco. Brava. Vedi a fare come ti ha fatto vedere Papi con le mani? A fare tipo una pallina, vai! Vai! Devi lavorarlo, devi lavorarlo. Ok. Prendi anche con la farina che è rimasta nella ciotola. Metti la pallina sopra. Sopra. In modo che la prenda, vai! E continua a lavorarlo. Poi, adesso che hai finito di preparare una bella pallina, lo copriamo, lo facciamo riposare per un paio d'ore e poi lo mettiamo in frigo. Perché sennò dopo lievita tantissimo e non riusciamo, visto che lo dobbiamo mangiare domani sera, gli blocchiamo un po' la lievitazione, la rallentiamo, non blocchiamo. Così domani sera viene un impasto perfetto. E ce la mangiamo tutta. E ce la mangiamo. Quasi fatto la pallina. Anna, continua, continua a lavorarlo. Continua a lavorarlo. Così. Si stacca e si fa così. Noemi, non vedo l'ora di mangiarlo domani sera. Non vedo l'ora di mangiare domani, non vedo l'ora di mangiare domani.